Devo dire la verità, ho voluto aspettare qualche giorno prima di registrare questo video e quindi esprimere le mie opinioni in maniera pubblica e in alta voce sostanzialmente perché sono un grande appassionato di Black Mirror, per esempio tra le altre cose ho curato un libro su questi temi qualche anno fa però non era questo il punto, il punto è che aspettavo come tanti questa sesta stagione di Black Mirror mi aspettavo che facesse fuoco e fiamme rispetto al mio immaginario, a quello che mi aveva abituato Black Mirror quindi tecnologia, distopia, interferenze con la vita delle persone sia dal punto di vista dei singoli individui che dal punto di vista della società avevo delle aspettative piuttosto alte, dato che tra l'altro la quinta stagione era uscita nel 2019 quindi non solo di mezzo c'erano stati diversi cambiamenti, dalla guerra in Ucraina fino alla pandemia ma anche perché ovviamente c'era la questione della tecnologia, era andata molto avanti quindi avevo delle aspettative molto alte poi ho visto la serie, ho viste tutte le puntate non in modalità binge watching ma in modalità appunto gustandomele una dopo l'altra e ovviamente come molti sono stato spiazzato perché sembrerebbe, e uso il condizionale in maniera approfondita sembrerebbe che questo nuovo Black Mirror non abbia nulla a che vedere col Black Mirror a cui siamo stati abituati in realtà secondo me il gioco narrativo di Charlie Brooker è stato un po' diverso cioè quello di non farci vedere una serie televisiva ma farci entrare in una serie televisiva adesso piano piano cerco di sviluppare tutti i punti il mio video sarà strutturato in questo modo prima parlerò un po' di cose in genere su questa sesta stagione di Black Mirror dopodiché farò una brevissima analisi dal mio punto di vista degli episodi che compongono questa stagione dopodiché cercherò di riflettere su qual è il senso complessivo di questa stagione e soprattutto cercare di capire se veramente noi appassionati siamo stati traditi dal progetto Black Mirror oppure no come tutti sanno Black Mirror è una serie creata da Charlie Brooker che ha le sue origini molti anni fa in Channel 4 poi è passato, diciamo così, è diventato una serie televisiva antologica come già era dalle sue origini su Netflix se non ricordo mai dalla terza stagione allora Charlie Brooker è lo sceneggiatore principale di Black Mirror è quello che ha inventato il progetto è quello che ha anche firmato la stragrande maggioranza degli episodi tra l'altro di questa stagione lui ha firmato tutti gli episodi e adesso cercherò di illustrare da cosa si capisce e perché questa cosa ha un suo ruolo, una sua importanza qual è il buzz, quindi il chiacchiericcio che ha circolato nelle settimane immediatamente precedenti l'uscita di Black Mirror tutti gli appassionati aspettavano l'uscita di questa stagione dato che l'ultima stagione è la quinta, è andata in onda nel 2019 siamo nel 2023, ormai, diciamo così, gli appassionati come me stavano scalpitando questo è un primo aspetto un secondo aspetto è che ci sono state anche un po' di aneddotica tipo che Charlie Brooker ha provato a scrivere tramite chat GPT il sistema di intelligenza artificiale, di OpenAI, una puntata ma lui ha detto che non è stato molto soddisfatto volendo utilizzare un eufemismo perché lo riteneva semplicemente una cozzaglia di quello che di stereotipi che già circolavano online su Black Mirror come d'altra parte fa chat GPT ogni volta che gli fa una domanda piuttosto precisa e dettagliata, non sempre ma nella stragrande maggioranza delle cose e quindi aveva tutto questo buzz, tutto questo tipo di situazioni poi la serie è stata rilasciata a Netflix lo scorso 15 giugno le sue cinque puntate come spesso che abbia sono state date diciamo sì distribuite in contemporanea in tutto il mondo, Italia compresa che cos'è successo? è successo che molti tra binge watching, puntate, viste così eccetera eccetera hanno cominciato a fare delle critiche nei confronti di questa stagione per esempio che questa è una delle cose che è emersa di più magari se fate un giro online questo tipo di critiche si trovano ancora per esempio che non è più una serie distopica perché ormai la realtà sembrerebbe che abbia superato l'immaginazione che era presente dentro Black Mirror altre polemiche sono state che sembrerebbe che Black Mirror in questa stagione abbia perso la sua carica di critica nei confronti della tecnologia che è grave perché tutte le sceneggiature, tutti gli episodi sono scritti da Charlie Brooker cioè quello che ha inventato Black Mirror e il progetto Black Mirror quindi sembrerebbe che Brooker abbia diciamo così disatteso le aspettative dei fan e poi soprattutto un'altra critica è che Black Mirror sembra che abbia perso la capacità di rappresentare la società contemporanea perché come tutti voi sapete che avete visto la serie per quelli che non l'hanno vista dovrò fare in alcuni casi dei piccoli spoiler quindi vi chiedo scusa fin dall'inizio quindi bloccate qui il video se non avete visto la serie non volete avere appunto che vi sveli alcuni segreti di queste puntate chiusa parentesi quello che sembrava appunto come quelli che hanno visto la serie sanno bene che Black Mirror è ambientata una puntata è ambientata nel presente il primo episodio Joan è terribile, Joan is awful la seconda puntata è ambientata in uno strano presente che ha una connotazione da anni 60-70 come atmosfera però ci sono tecnologie super futuribili come viaggiare nello spazio la possibilità di avere dei doppi tecnologici dei viaggiatori nello spazio chiamate repliche e poi tutto il resto è ambientato fra gli anni 90, gli anni 70 e gli anni 2000 quindi già questo è strano per una serie che si occupa di tecnologie di contemporaneità però è strano fino a un certo punto adesso cercherò di spiegare la mia posizione quindi la domanda a questo punto diventa dobbiamo noi considerare che il progetto Black Mirror ha perso la sua carica critica nei confronti della tecnologia e ha esaurito le possibilità di rappresentare il mondo contemporaneo quindi si è fiaccato Black Mirror allora come la vedo io? no perché secondo me in realtà Black Mirror ha delle chicche diciamo così ancora che lo connotano e secondo me bisognerebbe prenderlo nella giusta considerazione allora adesso farò una piccolissima diciamo così analisi schematica delle puntate non farò una recensione di ogni singola puntata perché a me di Black Mirror interessa il discorso sociologico il portato narrativo il meccanismo diciamo così di resoconto esperienziale del mondo contemporaneo cioè usare Black Mirror per comprendere il mondo contemporaneo quindi un immaginario che serve per utilizzare il mondo contemporaneo un immaginario o non immaginario quindi non farò un'analisi dettagliata diciamo così delle puntate però utilizzerò un'altra tecnica mi sono lasciato ispirare da un famoso antropologo della globalizzazione che si chiama Appadurai Appadurai tempo fa ha diciamo si è elaborato un linguaggio per quindi un modo dei concetti per analizzare il mondo globale contemporaneo che sono stati diciamo che sono piuttosto interessanti per chi si occupa di questi studi ma non solo chi si occupa anche di analisi dei media della società contemporanea lui ha parlato di cosetti panorami utilizzando il termine scape quindi lui parla di technoscape che è il panorama tecnologico socioscape che è il panorama sociale mediascape che è il panorama mediale utilizza questo suffisso scape che appunto viene da landscape da panorama in inglese per descrivere appunto gli orizzonti in cui si collocano le esperienze sociali contemporanee io farò la stessa solo per comunità analitica ovviamente non voglio fare analisi alla padurai utilizzerò la stessa terminologia parlando di technoscape per descrivere qual è l'orizzonte tecnologico in cui si collocano gli episodi socioscape qual è l'orizzonte sociale e culturale in cui si collocano gli episodi e poi cercherò di fare anche un paio di riflessioni sugli easter egg perché come voi ben sapete black mirror è ricchissimo di easter egg sia interni cioè che citano altre puntate di black mirror sia esterni che citano cose che riguarda il mondo circostante allora cominciamo col primo episodio Johnny Soful Johnny è terribile qua si racconta la storia di una ragazza che scopre che la sua vita è diventata uno strumento per essere raccontata all'interno di una fittizia quanto divertente canale televisivo streaming che si chiama che si chiama streamberry e che palesemente è la parodia di Netflix perché c'è lo stesso logo di Netflix c'è lo stesso contesto di Netflix la stessa user experience di Netflix e non è un caso adesso ci arrivo allora il Johnny Soful quindi praticamente si viene a scoprire che la vita di questa ragazza in tempo reale si trasforma grazie a delle tecnologie sofisticate in una serie televisiva che tutti possono fruire allora qual è il technoscape cioè l'orizzonte tecnologico in prima di tutto c'è una presenza massiccia di deepfake i deepfake per chi non lo sapesse è la possibilità di riprodurre con delle tecnologie di intelligenza artificiale delle persone e quindi fargli fare delle cose in maniera completamente automatica e sintetica quindi c'è la presenza di questi deepfake in Italia per esempio chi ha utilizzato i deepfake per raccontare quanto possono essere pericose appunto di disinformazione è stato strisciare la notizia facendo per la prima volta il deepfake di Matteo Renzi un po' di tempo fa quindi il primo elemento tassero tecnologico sono i deepfake poi l'altro tassero tecnologico è un computer quantistico che sarebbe in grado di cogliere in tempo reale diversi piani della realtà e inserirli all'interno delle serie televisive ovviamente qua il computer quantistico ha un ruolo come capita in alcune puntate di Black Mirror soprattutto di essere una tecnologia che serve per far mandare avanti la storia quindi è una, come si dice è una techno bubble cioè è un modo di parlare tecnologico che in realtà serve semplicemente per far mandare avanti la storia quindi questo è il tecno scape qual è invece il socioscape? il socioscape è molto importante perché definisce il contesto di fruizione di questa puntata e anche delle puntate successive prima di tutto è la passione ossessiva che noi tutti abbiamo nei confronti delle serie televisive perché tutti siamo appassionati di serie televisive e quindi il fatto che noi vediamo Black Mirror in un certo modo è anche dovuto al fatto che noi stessi siamo fanatici di serie televisive quindi il primo aspetto ma il secondo aspetto che secondo me è più interessante è la nostra ingenuità come utenti nei confronti dei termini d'uso sapete quelle cose che noi siamo costretti a cliccare accetta i termini d'uso per poter andare avanti nella fruizione di un servizio nella registrazione di un prodotto e così via dicendo ecco questo è una cosa che nel socioscape della prima puntata di Black Mirror è piuttosto evidenziata soprattutto nelle conseguenze nefaste quali sono gli easter egg? gli easter egg sono proprio per appassionati quindi vi dico subito una cosa che se io mi mettessi come hanno fatto altri video soprattutto in ambito internazionale di lingua inglese ad analizzare gli easter egg uno per uno sfruttando i nomi ritagli dettagli eccetera eccetera non riusciremmo più io diciamo così che cerco di concentrarmi sugli easter egg che io ho riconosciuto subito il momento in cui gli ho visti ovviamente il primo easter egg il primo easter egg in assoluto che a me ha molto colpito è la famosa canzone che si sente quando la protagonista del primo episodio di Johnny Soful va a trovare il suo ex e in questo locale in cui si incontrano c'è la famosa c'è una canzone molto celebre che è Anyone Who Knows What Love Is che sarebbe per intenderci la canzone che viene cantata dalla protagonista dalla ragazza di cui si namore il protagonista di 15 milioni di celebrità della prima stagione di Black Mirror questo per proprio per gli appassionati tra l'altro la canzone è molto bella torna più volte dentro la serie le varie stagioni della serie Black Mirror però questo per dire è una cosa che tutti gli appassionati di Black Mirror sono in grado di riconosce l'altro easter egg è ovviamente Streamberry cioè il fatto che la Johnny Soful racconta di questa diciamo così racconta del fatto che le persone fruiscono delle serie televisive guardando questo canale stream che si chiama Streamberry che è una parodia diciamo così nel nome ma in realtà è appunto questa grafica praticamente indistinguibile da Netflix il che è curioso ma non dal punto di vista della costruzione narrativa dell'esperienza Black Mirror è curioso perché noi siamo su Netflix a vedere qualcuno che sta guardando la parodia di Netflix quindi c'è un livello metalinguistico che tornerà tantissime volte in questa stagione l'altra cosa che mi ha colpito è che diciamo così nella se uno va a vedere il menu di Streamberry cioè il menu a più finestre di Streamberry sono un sacco di citazioni quella che ho colto io è che Johnny Soful cita il secondo episodio della stagione Black Mirror della stagione 6 Black Mirror che si chiama appunto Lock Henry quindi è curioso che il primo episodio comincia a citare anche gli episodi successivi nella fattispecie l'episodio numero 2 della stagione numero 6 questa è la cosa che mi ha colpito quindi passiamo direttamente alle caratteristiche del secondo episodio della sesta stagione di Black Mirror il secondo episodio si chiama Lock Henry e racconta sostanzialmente la storia di una coppia una coppia di ragazzi che si sono conosciuti nella scuola di cinema che vanno a trovare arrivando in un piccolo paesino dell'Inghilterra con ospite della madre di lui semplicemente perché sono in un viaggio per andare a fare un documentario dopodiché lei scopre una storia di sangue molto cruenta ambientata in questo in questo borgo in questo piccolo borgo ormai quasi disabitato dell'Inghilterra e decide che decidono lei più che altro decide e convince lui a cambiare progetto a fare quindi un documentario basato su un crime più che un documentario basato sui fatti di sangue che sono accaduti in questo paesino allora qua c'è poco da fare spoiler perché è un giallo a tutti gli effetti è ambientato grossomodo da quello che mi sembra dall'estetica più che altro è ambientato intorno agli anni agli anni 80 90 più che altro anzi un po' più degli anni 90 perché comunque c'è questi ragazzi tra le varie riprese che usano ci sono i droni ma il protagonista assoluto di questa puntata sono le le cazzette VHS cioè dei vecchi lasciti che erano presenti dentro diciamo così nella casa della madre di lui su cui aveva registrato a sua volta un'altra serie televisiva di cui la madre era molto era molto appassionata e quindi diventano i veri protagonisti di questa di questa puntata in realtà sono le cassette VHS qual è il technoscape il technoscape appunto è quello del video amatoriale anni 80 anche se in realtà la storia non è inventata negli anni 80 è inventata negli anni 90 appunto perché si parla di una ripresa video tramite fatta con i droni poi ci sono però la tecnologia di ripresa che viene usata sono le diciamo così le camere le videocamere che si usavano nelle riprese degli anni 80 e quindi registrano direttamente sulle videocassette che servirà appunto per scoprire che le videocassette dicono molto di più di quanto in realtà la madre fosse disposta ad ammettere piccolo diciamo così nodo narrativo a prendere in considerazione il socioscape il panorama sociale è quello degli studenti delle scuole di cinema con le loro passioni ossessioni la voglia di diventare di fare il progetto importante della loro vita e quindi essere distribuiti in tutto il mondo e poi c'è un'altra cosa interessante che è l'ossessione che ci accomuna almeno per quanto mi riguarda per le storie true crime per queste serie televisive molto cruenti che vengono distribuite guarda caso dai canali streaming infatti qua in questa puntata ritorna la distribuzione in streaming di Streamberry quindi del doppio di Netflix all'interno di Black Mirror la sesta stagione vedete come si stanno cominciando a sovrapporre tutti i vari livelli allora quali sono gli easter egg anche qui abbiamo la parola di Streamberry ah poi c'è una cosa molto carina il documento diciamo così il true crime che verrà fatto dai ragazzi verrà premiato ai BAFTA quindi diciamo così nel festival diciamo così nel corrispettivo degli Oscar però per il cinema per il cinema inglese e la cosa divertente è che fra i vari diciamo sì fra le varie serie in lizza ce n'è una che si chiama Eutanasia il progetto San Giunipero che come tutti gli appassionati avranno riconosciuto fa riferimento a San Giunipero una delle puntate più belle più discusse e più amate dalla community degli appassionati di Black Mirror poi un altro sempre in questa puntata si trova un'altra cosa molto curiosa molto carina molto interessante interessante che è un riferimento al fatto che c'è un documentario che parla degli anni del governo del governo di Callow per chi non se lo ricordasse Callow era il primo ministro in messaggio al primo ministro della prima puntata del pilot di Black Mirror in cui appunto la storia raccontava un primo ministro che era costretto a fare degli atti contro natura in diretta televisiva e questo per dire appunto come poi alla fine il mondo Black Mirror tende a sovrapporsi a autocitarsi per creare un universo narrativo piuttosto coerente il terzo episodio della sesta stagione che si chiama Beyond the Sea in fondo al mare sarebbe anche se in italiano ha lo stesso diciamo così ha lo stesso titolo i titoli non sono tradotti in questa stagione tranne Johnny Zofull Johnny Terribile ma perché c'è un motivo a cui adesso piano piano arriverò allora in questa stagione diciamo così l'atmosfera è molto anni anni settanta soprattutto l'esplorazione spaziale degli anni sessanta settanta per intenderci l'atmosfera che si respira sembrano quasi Cape Canaveral del 1969 però le tecnologie sono estreme infatti si racconta la storia di due astronauti che stanno facendo un viaggio nello spazio ma per cercare di mantenere la loro psicologia stabile hanno la possibilità di utilizzare dei doppi quasi dei robot non si capisce bene così però sono dei doppi fisici che vivono con le proprie famiglie che permettono loro appunto di rilassarsi e di passare del tempo con le loro famiglie quindi mantenendo salda la tremenda solitudine che hanno due astronauti nel fare questi viaggi interstellari questi doppi si chiamano repliche appunto questi quindi vedete si torna sempre con la fantascienza repliche replicanti tra l'altro questo è l'episodio in cui il protagonista è Aaron Paul per intenderci uno dei due protagonisti di Breaking Bad allora la storia è terribile è molto cruda e molto cruenta ma ha una bellissima atmosfera diciamo così molto poco tecnologica anzi pochissimo tecnologica molto atmosfera molto bucolica questa atmosfera bucolica viene rinforzata dal fatto che la musica utilizzata è quasi diciamo è tutta musica degli anni non sono un esperto ma mi sembra che sono gli anni sessanta francesi c'è appunto la Mer questi questi brani qui allora qual è il tecnoscape di questo di Beyond the Sea il tecnoscape quindi il panorama tecnologico sono i viaggi interstellari l'utilizzo dei replicanti scusate delle repliche quindi abbiamo tecnologie sofisticate molto avanzate in un contesto che sembra molto molto classico molto gli anni settanta lo socioscape invece è più interessante perché prima di tutto ci sono delle diciamo c'è una vicenda all'inizio che diciamo così in cui c'è un gruppo di scalmanati che decido di fare violenza nella famiglia di uno di due protagonisti è il riferimento ovviamente la citazione quella di Charles Manson The Family quindi la strage di Sharon Tate la morte di Sharon Tate la strage di quel periodo storico che tra l'altro è stato anche raccontato da Tarantino in c'era una volta raccontato e diciamo si è reinterpretato da Tarantino in c'era una volta a Hollywood è il motivo per cui questo gruppo di persone questi freak diciamo così lisergici e violenti decidono di uccidere dovuto soprattutto ad una reazione luddista cioè il fatto che queste repliche sono degli insulti addio o comunque allo stato delle cose proprio perché sono dei doppi e sono dei robot che possono fare tutte le cose tutte e per tutto questo è il tecnoscape il socioscape qual è l'easter egg l'easter egg è più che altro nella locandina perché nella locandina c'è un riferimento al logo di orso bianco white bear quello strano simbolo che faceva parte del tatuaggio di uno dei due assassini della ragazzina dell'episodio famoso di black mirror quello per intenderci ambientato in una specie di disneyland però in cui lo scopo è quello di continuare a torturare psicologicamente uno dei due protagonisti di questo terribile di una ragazzina ci sono altri easter egg per esempio c'è un riferimento alla fittizia serie televisiva di black mirror che si chiama il mare della tranquillità è ovviamente un dettaglio praticamente quando uno dei due protagonisti esce dal cinema c'è un manifesto e c'è appunto un dettaglio su questo mare della tranquillità per chi non se lo ricordasse il mare della tranquillità era una fittizia serie televisiva che esiste solo dentro black mirror in cui il fandom e i appassionati di questa serie vengono incontrati da Alessi nella famosa puntata nose dive caduta libera per intenderci la puntata in cui c'era questa specie di mondo in cui le persone tutto quello che potevano fare dipendeva dai like che ricevevano all'interno di una app piuttosto particolare e questo era Beyond the Seed con Beyond the Seed abbiamo proprio lo spartiacque perché abbiamo tecnologie sofisticatissime come black mirror classico però in un contesto assolutamente bucolico anzi praticamente agnostico nei confronti di queste tecnologie perché poi le reazioni sono più che altro di tipo psicologico ed emotivo e poi abbiamo due episodi che con la tecnologia sembra non centrarci praticamente nulla infatti ho fatto uno sforzo per mantenere la distinzione technoscape socioscape allora uno è Mezzi Day Mezzi Day è la storia di questa ragazza che fa la paparazza il paparazzo chiamiamola comunque fa delle foto scandalistiche per delle testate giornalistiche online perché la serie scusate la puntata è ambientata quello che sembrerebbe essere la fine degli anni 90 e inizi del 2000 però questa ricerca soprattutto di un'attrice in particolare questa Mezzi Day porterà ad una svolta che potremmo dire horror weird che con la tecnologia non c'entra assolutamente niente il technoscape qual è? il technoscape è quello della tecnologia dei fotografi scandalistici statunitensi degli anni 90 primi anni 2000 quindi abbiamo schede delle macchine fotografiche macchine fotografiche la possibilità di passare le fotografie dalla macchina fotografica al computer il collegamento internet c'è ma si va con i modem quindi con i famosi modem che fischiettano di windows 3.11 quindi per chi del periodo ricorda un sacco di situazioni tecnologiche fatte fatte in questo in questo in questo senso il socioscape è il mercato aggressivo dell'informazione scandalistica online degli anni 90-2000 in cui ci si pone la domanda se appunto chi sono le bestie che si comporta come delle bestie questi questi fotografi o queste o le persone del mondo dello spettacolo la risposta in realtà che è piuttosto palese sta nella finale di questa puntata che ovviamente mi guardo bene da dovervi da dover raccontare allora mezzidei è quello che ha un sacco di easter egg soprattutto per chi vuole fare il nerd delle serie televisive cioè frizzare ogni immagine e cercare di capire quali sono i riferimenti io ovviamente vado a braccio quindi non voglio fare il nerd anche se comunque è interessante spucciarsi i riferimenti che Black Mirror fa se stesso però ci sono diversi riferimenti per esempio nell'episodio iniziale in cui si vede il lavoro che fa questa ragazza lei fa diciamo si paparazza un rapporto omosessuale di un protagonista di un'importante serie televisiva e questa importante serie televisiva è proprio il mare della tranquillità The Sea of Tranquility e quindi appunto questa fittizia serie televisiva di Black Mirror poi si vede un'altra scena in cui questi paparazzi inseguono un gruppo di paparazzi di notte inseguono quella che sembra essere una VIP con delle foto facendo anche delle foto diciamo così anche di gusto terrificante c'è un fotografo che decide di fare una foto sotto la gona di questa quella che sembrerebbe un'attrice una subretta non si capisce bene che si sta dirigendo verso un club il club si chiama Quagmire il riferimento ovviamente non è almeno non credo che sia Quagmire quello di Family Guy però lo stesso il nome dello stesso club è presente nel club quindi della discoteca è presente nella puntata San Junipero quindi c'è una specie di citazione interna poi si dice un'altra cosa che Mezzi è diventata questa attrice famosa ma poi scomparsa è diventata famosa grazie ad una saga che si chiama appunto All Ever Wish Saga e che sembra una saga che prende in giro o comunque fa riferimento in tutto e per tutto a Twilight quindi vampiri uomini lupo e quindi per chi ha visto la serie il fatto che c'è questo riferimento dice qualcosa in più sullo svolgimento sullo svolgimento della trama poi c'è un'altra cosa che io mi è parso di aver visto ma confesso che non sono andato a controllarlo allora si vede durante l'episodio il fatto che questa ragazza in due volte si va ad una ad una tavola calda vicino ad un posto dove si disintossicano i vippi che si chiama Emerald Pine non vorrei sbagliarmi ma in una delle inquadrature presse dall'altra di Emerald Pine a un certo punto Emerald Pine c'è un glitch che lo trasforma nel logo dello smiley di Black Mirror non vorrei esserlo immaginato perché va fuori di vedere queste puntate può capitare però mi sembra che fra i vari easter egg ci potrebbe anche essere questo confesso che non l'ho controllato magari se voi vi capita ancora non avete visto la puntata la puntata Mezziday la quarta puntata della sesta stagione quindi se vi capita fate un'occhiata c'è questa presa dall'altro di della di Emerald Pine e c'è un glitch che fa in cui per un attimo fa vedere appunto lo smile famoso di Black Mirror dopodiché c'è l'ultimo episodio che si chiama Demon 69 che è un episodio curioso perché è un episodio completamente weird è completamente horror di tecnologia non c'è l'ombra proprio non c'è l'ombra l'unica ombra che c'è è quella di una televisione anni 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 80 ma proprio tra la fine del 79 e l'inizio degli 80 dove è ambientato questo episodio quindi il technoscape è praticamente inesistente il socioscape invece c'è il socioscape perché ha un orizzonte sociale quindi ci deve essere per forza i fini narrativi c'è fondamentalmente si sembra di coglie l'Inghilterra di Margaret Thatcher quindi una l'Inghilterra molto reazionaria e soprattutto un'Inghilterra molto molto critica nei confronti della migrazione estera il che diciamo così fa parte della narrazione perché la protagonista di questo episodio è un'immigrata indiana che subisce delle vessazioni da parte della collega da parte del padrone del negozio di scappa dove lavora dunque quali sono gli easter egg anche qui gli easter egg ce ne sono tantissimi il sigilo del demone che viene evocato perché c'è proprio un demone evocato proprio un horror a tutti gli effetti un horror come si usavano diciamo così negli anni 80 infatti oltre a esteticamente ricordare i film di blaxploitation con le inquadrature eccetera eccetera quelle più oniriche c'è un riferimento molto classico al film la zona morta the dead zone in cui si racconta appunto la storia di un di Christopher Walken che si da un racconto di Stephen King in cui si risveglia da un coma e scopre di poter prendere il futuro tra cui il futuro del primo ministro che diventerà una persona molto violenta e quindi che lui deciderà di uccidere non ho fatto spoiler perché in realtà il film poi si svolge su una trama diciamo sì in cui questo snodo è importante ma è piuttosto diverso quindi c'è questo riferimento all'horror degli anni 80 anche nelle blaxploitation diciamo degli anni 70 gli anni 70 altre citazioni dunque c'è una situazione interessante il giovane rampante politico che nella visione della protagonista dell'episodio diventerà un politico che farà del male nei confronti delle persone si chiama Michael Smart e questo Michael Smart viene citato in tutti i ritagli della puntata di Locke Henry quindi c'è una citazione incrociata interna alla stagione numero 6 poi si vede anche un'altra cosa che questo sempre in questa visione della protagonista dell'episodio questo giovane politico rampante che diventerà un terribile primo ministro inglese Michael Smart in realtà sarà il responsabile di introdurre una polizia robotica fatta da cani robot che inseguono le persone i cani robot manco per farla apposta sono il cane robot che viene raccontato nell'episodio Metalhead sempre della terza stagione sempre di Black Mirror mi pare di che fosse della terza stagione quindi Black Mirror che cita se stesso allora questo è per quanto riguarda il diciamo così l'orizzonte l'orizzonte delle tecnoscape socioscape eccitazioni la domanda a questo punto diventa Black Mirror ha perso la sua carica distopico verso la tecnologia ed è diventato semplicemente una serie horror weird no secondo me no perché secondo me c'è un'altra interpretazione che noi possiamo dare allora diciamo che l'unico vero episodio nello stile di Black Mirror è Johnny Zofull quindi il primo episodio della stessa stagione quello che dà il là a tutta la stagione però non è solamente un episodio vi ricordo che la trama è una ragazza che guarda una un canale di streaming che che a sua insaputa l'ha fatto diventare grazie ai deepfake l'ha fatto diventare la protagonista di una serie televisiva in cui lei fa la figura di quella di essere una persona terribile da cui appunto il nome della puntata quindi c'è questo livello metanarrativo però Black Mirror con questo diciamo così la serie la stessa stagione con questa caratteristica non solo ci sta dando una bella puntata distopico di Black Mirror ma ci sta anche dicendo guarda che così come è la ragazza Joan è diventata protagonista della serie su Streamberry tu diventerai protagonista della serie su Netflix e come fa a farlo? allora prima lo fa con un lancio di marketing c'è un sito che si chiama youareawful.com in cui noi possiamo appunto diventare protagonisti di questa serie televisiva è un sito divertente promozional marketing youareawful.com in cui si chiede di scattarti una foto di accettare le diciamo così le regole in termini di utilizzo del servizio e poi si diventa virgolette virgolette parte di questa di questa specie di presunta serie televisiva distribuita da da Streamberry però questo non è solamente una caratteristica perché in realtà Black Mirror ci sta dicendo che noi adesso tanto che siamo Black Mirror perché siamo A appassionati di serie televisive soprattutto quelle più cruenti e B vediamo queste serie televisive su una piattaforma nel vedere rappresentati una persona che potremmo essere noi stessi all'interno di questa puntata cosa accade e cosa succede la cosa pazzesca è che le altre puntate servono semplicemente per farci capire che noi siamo parte di questo meccanismo narrativo Locke Henry che dice che Locke Henry ci dice sostanzialmente tu stai seguendo Black Mirror bene ma tu sei parte di questa narrazione perché come i protagonisti hanno diciamo così praticamente venduto l'anima al diavolo con tutte le virgolette non è questo il caso però per fare una puntata un crime una serie crime su dei fatti di sangue tu in realtà stai vedendo una serie distopica che racconta le puntate crime della serie di sangue quindi c'è questo meccanismo e quest'altro meccanismo narrativo inoltre c'è un altro elemento che secondo me rinforza da sostegno questa mia interpretazione cioè il fatto che Black Mirror è diventato horror perché in realtà ci vuole far riflettere sul fatto che stiamo vedendo una serie televisiva di cui in realtà noi siamo stati protagonisti a partire dalla prima puntata allora sono tutti episodi tranne il primo episodio appunto Johnny Soful che è un episodio in puro stile Black Mirror con elementi di tecnologia contemporanea e di fantascienza molto tarata sull'oggi e di strumenti che esistono i deepfake i computer quantistici eccetera eccetera e poi c'è l'episodio diciamo così più avveniristico che parla di spazio di fantascienze di viaggi che però vengono resti sostenibili grazie alla presenta delle repliche in realtà tutti gli altri episodi sono episodi vintage Locke Henry ambientato negli anni 90 Mezzidea ambientato negli anni 2000 Demol 79 ed è ambientato nel 1979 quindi perché la tecnologia e l'atmosfera culturale è quella del 79 e degli 80 persino il diciamo così i programmi televisivi in cui ci sono i buoni AM che hanno la loro musica in televisione cercano di dare quel tipo di atmosfera però pur essendo diciamo così non avendo un tecnoscape piuttosto identificato in realtà la ricerca nei confronti della tecnologia del periodo storico di cui queste puntate sono la presentazione è molto ben fatta cioè le tecnologie degli anni 90 sono quelle degli anni 90 le tecnologie video degli anni 80 sono quelle degli anni 80 le tecnologie assenti degli anni 70 sono quelle degli anni 70 l'unica tecnologia presente è un televisore quindi in realtà c'è questa ricerca un po' come era accaduto anche in Bandersnatch cioè per intenderci l'episodio di Black Mirror in cui si potevano scegliere come far progredire l'episodio utilizzando una scelta fra delle opzioni possibili anche in Bandersnatch c'era applicato era ambientato negli anni 80 però negli anni 80 al punto di vista tecnologico quello dei videogiochi della scrittura degli episodi del meccanismo narrativo dell'ambientazione era perfetto era molto molto ben fatto quindi in realtà cosa succede perché c'è questa c'è questa componente perché Black Mirror ha la prima puntata che è stile Black Mirror e tutte le altre che non lo sono la prima puntata della stessa stagione e tutte le altre cinque puntate scusate quattro puntate della stessa stagione non lo sono più tecnologiche perché in realtà il tema non è più la tecnologia ma siamo noi che in un mondo tecnologico guardiamo le puntate sulla tecnologia di una serie televisiva quindi è così come Bandersnatch ci ha fatto entrare dentro Black Mirror scegliendo come progredire l'episodio adesso la sesta stagione ci sta dicendo guarda che tu non ti puoi più tirare indietro non sei solamente più uno che sceglie ma tu sei parte integrante di questo meccanismo tu sei parte integrante di questo mondo tu con le tue fissazioni per le serie televisive con lo streaming su Netflix che qui si chiama Streamberry e con tutte queste caratteristiche con questi riferimenti diciamo così di ricerca delle citazioni incrociate in realtà tu sei parte integrante di questa esperienza tu sei antropologicamente dentro la narrazione di Black Mirror il che rende Black Mirror la sesta stagione una rivelazione dal punto di vista sociologico antropologico e dell'immaginario quindi la sesta stagione se noi continuiamo a vederla come vediamo adesso come Brooker ci racconta il mondo contemporaneo è una delusione ma se noi la vediamo come vediamo adesso come Black Mirror ci fa entrare come parte integrante di questo mondo delirante da questo punto di vista Black Mirror sesta stagione ha raggiunto un apice secondo me molto 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 interessante su cui avremo modo di riflettere quindi come diciamo così quali sono le conclusioni che possiamo trarre da questo tipo di meccanismo Black Mirror vuol dire schermo nero uno schermo nero che è uno schermo riflettente quindi le prime cinque stagioni di Black Mirror ci hanno fatto rispecchiare in questo schermo nero cioè vediamo le puntate e riconoscevamo il contemporaneo con Bandersnatch noi siamo entrati abbiamo scelto in questo schermo nero siamo diventati e l'abbiamo utilizzato in maniera interattiva in questo schermo nero con la sesta stagione non solo abbiamo rotto lo schermo nero siamo caduti in questo schermo nero e stiamo cominciando di questo schermo nero a vedere quant'è profonda la tana del bianconiglio Black Mirror comincia come uno specchio la sesta stagione è una rottura dello specchio come Alice nel Paese delle Meraviglie vediamo quant'è profonda la tana del bianconiglio e non per niente questa è la citazione di uno dei film più visionari su tecnologie e contemporaneità che è Matrix nel 1999 quindi attenti a dire che Black Mirror ha perso la sua carica ha perso la sua carica se noi ci poniamo come spettatori cioè vediamo cosa mi racconta Charlie Brooker sulla tecnologia contemporanea ma non ha perso per niente la sua carica critica distopica del mondo contemporaneo attraverso la tecnologia se noi lo vediamo come noi siamo parte integrante culturalmente sociologicamente antropologicamente di questo mondo perché noi stessi stiamo vedendo una serie televisiva che parla di puntate horror di uno streaming che in realtà esiste anche all'interno di questa stessa serie televisiva quindi non è un caso che c'è una citazione di Netflix con Streamberry non è un caso che si è passato dalla fantascienza all'horror perché non potevi raccontare di fantascienza non potevi essere parte di questa fantascienza con una narrazione fantascientifica si sovrapponevano troppo i livelli ma si usa l'horror per dire guarda che tu stai guardando una serie televisiva di cui tu sei parte integrante così come la parte integrante la poverina Johnny Soful che attraverso i deepfake cominciava a diventare un protagonista in senso negativo della serie televisiva di cui tutti poi stavano cominciando a parlare appunto Johnny Soful questo è il mio punto di vista non è particolarmente diciamo così non so se è particolarmente interessante però io ci ho pensato molto tempo e ho detto Charlie Brooker non è mica pazzo perché ha dato questa svolta a Black Mirror per dirci che in realtà a Black Mirror siamo noi ce l'ha detto in tutti i modi possibili prima era un noi lontano le puntate che vedevamo poi noi vicino adesso siamo proprio noi Johnny Soful Davide is awful e tutti voi che state guardate siete terribili perché avete visto questo video che parla di Black Mirror che vi racconta come voi stessi siete dentro Black Mirror vabbè sto dirando sto scherzando ma perché in realtà questa stagione vedendolo con questo sguardo assume un gusto e un interesse completamente diverso voi che cosa ne pensate? stagione 6 ha un senso oppure no? Black Mirror ha perso la sua carica distopica oppure no? ditemi il vostro punto di vista e grazie per aver seguito qui adesso grazie a tutti